Oggi vi parlo di un nuovo personaggio della Banda della Magliana perché vi sto facendo una carrellata di tutti i personaggi più importanti della Banda della Magliana e oggi come non parlarvi di Danilo Abbruciati. Per farvi capire chi è Danilo Abbruciati è il Nembo Kid della serie Romanzo Criminale, perciò vi fate un attimo un'idea del personaggio. Nella serie praticamente lo vedete collegato praticamente coi poteri forti, lo vedete uno molto determinato, ma oggi in realtà guarderemo il suo profilo. Perché parliamo di Abbruciati? Perché ci sono delle piccole chicche che è importante sapere. Approfitto per ricordarvi che Foodspring sta facendo sempre nuovi prodotti, introducendo nuovi gusti, in particolare l'Energy Aminos ragazzi, il pluri apprezzato Energy Aminos ha aggiunto due gusti, la maracuia e ovviamente il tè ghiacciato. L'Energy Aminos vi dà l'energia per partire, quello sprint è importante. Lo consiglio, provatelo ragazzi perché sono prodotti di altissima qualità, non ve ne pentirete perché li uso io personalmente. Altro prodotto estremamente interessante sono le barrette proteiche vegane, che sono queste. Mi è arrivato il pacco proprio adesso, nuovo di pacca. Qual è il vantaggio delle barrette vegane proteiche? Allora non bisogna essere intanto per forza vegani, potrebbe essere semplicemente che non volete le proteine whey, perciò derivate dal latte, ma volete delle proteine vegetali. Queste sono la soluzione per tutti coloro che vogliono una barretta proteica, buona, di qualità, con ingredienti certificati che sia mangiabile, sia per l'attività sportiva ragazzi, ma anche come spuntino nel tempo libero. Vi ricordo il link in descrizione per avere lo sconto di Cicalone Scuola di Botte eseguito dal codice SimoneYT, perciò cliccate sul link e poi alla fine del carrello mettete SimoneYT e avrete il 15% di sconto sui prodotti che non sono già scontati. Danilo Abbruciati è una figura di rilievo della banda della Magliana, ma in particolare dei testaccini, ma ancora più in particolare della criminalità in Italia, perché al di là della banda della Magliana, dove lui entrò semplicemente per farsi gli affari propri, diciamocelo realmente, aveva instaurato tutta una serie di rapporti con la criminalità che conta. Partendo fin da ragazzino, perché lui nasce a Primavalle, dal padre, Utello Abbruciati, e qui c'è la chicca, Utello Abbruciati era un gran pugile, un cartellino veramente notevole, 104 match, non 10-20, 104 match da professionista, deteneva alcuni titoli italiani ed è andato a fare anche diversi incontri internazionali, sia in Argentina che in Germania, in Svizzera, cioè non era uno che te le mandava a dire, non ha vinto titoli mondiali, non ha vinto titoli europei, però, oh raga, stiamo parlando di un incrocio del padre di uno dei grandi criminali del passato. Danilo Abbruciati ha seguito anche lui la carriera del padre inizialmente approvato a fare il pugilato, perciò all'inizio chiamarono anche il pugile. In realtà, la sua poca propensione alla disciplina, all'allenamento, lo portò a lasciare quasi subito e da lì lui si mise a frequentare dei ragazzotti della Roma Bene, perché lui era di Primavalle, cioè Primavalle, ragazzi, già oggi è periferia, ma ai tempi era proprio la periferia più periferia del mondo praticamente. Con questi ragazzotti della Roma Bene gli disse, oh ma voi conoscete gente che ha i sordi, magari gli andiamo a a casa e da lì formarono una gang dei camaleonti e da lì questo soprannome, il camaleonte, gli rimase per sempre. Da questi piccoli furti dentro le case di quelli ricchi, poi passò alle rapine e finì in carcere. In carcere si mise subito in moto e instaurò subito rapporti con un pezzo da 90, il boss di Milano, Francis Turatello, il quale poi lo coinvolse anche nella sua organizzazione, tant'è che lo portò a fare sequestri, tutta una serie di operazioni e fu accusato anche del sequestro di bouticchi, per farvi capire, un petroliere ex presidente del Milan. Dopo un tot di tempo che venne tenuto in carcere a Bruciati fu rilasciato perché riuscì a risultare estraneo all'evento, però aveva già messo le mani nella marmellata quella proprio piena, cioè con Francis Turatello, un sequestro enorme, lo portò ad allacciare rapporti anche con i marsigliesi. I marsigliesi avevano bisogno di qualcuno che gli desse una mano a Roma nella gestione delle loro attività. In particolare i marsigliesi avevano una serie di locali nella via Bene, nella via quella del lusso di Roma, che era via Veneto, dove a Bruciati gli diede realmente una mano. Continuando l'attività criminale, ovviamente a Bruciati fu riaccusato sia di alcuni omicidi, dei quali poi fu assolto, ma in particolare di alcuni sequestri e si dovette fare alcuni anni di carcere. Quando uscì nel 79 insieme al suo amico Frau, diedero un occhio al panorama romano di quello che era la malavita, cioè la nuova criminalità, e notò ovviamente che il suo amico fraterno De Pedis aveva messo mani su questo gruppo che era sta nuova banda della Magliana, questa nuova unione di batterie. E lui, da buon cane sciolto, perché nonostante lui avesse un profilo criminale già di spessore, lavorava sempre come cane sciolto, un colpo qua, una dritta là, una consulenza di qua. Si unì a questo gruppo, ma con il semplice intento di farsi gli affari propri, cioè dice se c'è una batteria dei rapinatori, qualche dritta, qualcosa, ma tutto quello che tiro fuori le mie conoscenze me le gestisco per me. Le condivideva solamente con i testaccini, i quali avevano deciso di reinvestire praticamente i proventi di tutto quello che succedeva, furti, rapine, sequestri, eccetera, eccetera, nelle attività imprenditoriali della Bruciati, il quale era un imprenditore molto scaltro, grazie anche alle conoscenze che lui vantava a Roma. Per esempio, la Bruciati a Roma, grazie a Domenico Balducci, detto Memmo, e a Dio Dallevi, riuscì a entrare in contatto con un ristoratore romano, tale Mario Aglialoro, che altro non era, che Pippo Calò, il cassiere della mafia. Nel frattempo, a Bruciati tanto gestiva il mercato della droga di Trastevere, ma in realtà si era appoggiata una ragazza molto brava, che poi diventò la sua compagna, tale Fabiola Moretti, perciò poteva portare avanti tutti questi mercati e farsi ben volere da Pippo Calò, che sotto le mentite spoglie di Mario Aglialoro, ristoratore romano, gli dava tutte le indicazioni e lo usava come braccio operativo su Roma. E grazie a questi rapporti incrementa ancora di più la crescita del capitale, perché lo portano a investire a livello internazionale i soldi che i testaccini gli avevano affidato, sia dal punto di vista legale, perciò mercato immobiliare, commerciale, automobilistico, eccetera, ma anche dal punto di vista illegale, usura, droga, armi, tutto quello che funzionava. Nel frattempo il resto del gruppo della Magliana stava andando a scatafascio, perché che facevano questi? Prendevano i soldi e se li bruciavano, oh c'avevamo 50 milioni, ora mi compri un macchinone, vado con quella, mi pippo tutto, eccetera, eccetera, e succedeva che da una parte questi crescevano e si arricchivano e si usuravano meno, perché, l'abbiamo già detto nel video di De Pedis, se non l'avete visto andatevelo a vedere, non pippava, non andava a donne, non creava casini e i soldi se li metteva al pizzo. De Pedis, insieme ad Abbruciati, hanno creato quello che era dei testaccini, una holding criminale vera. Addirittura De Pedis è stato inizialmente guidato da Abbruciati, perché le vere conoscenze ce le aveva Abbruciati, poi l'abilità di De Pedis è stata sicuramente tenerle in piedi, continuare a manovrare questi fili, perché nelle sequenze di morti, perché da una morte a un'altra, ognuno poi continuava a tenere i fili. Giuseppucci e Abbruciati avevano un ottimo rapporto, tant'è che poi frequentando la zona dell'Eur, vennero in contatto anche con i NAR, i nuclei armati rivoluzionari, parliamo di estrema destra, dove trovarono un giovane promettente molto bravo, che era proprio Carminati, il quale reinvestiva i proventi, diciamo, delle rapine per finanziare il gruppo con Abbruciati e con i testaccini e in cambio faceva dei servizi per conto anche dei testaccini che erano poi commissionati sempre dall'alto. Si dice per esempio dalle dichiarazioni del pentito Abbatino, di cui poi parleremo, che fosse proprio il mandante dell'omicidio Pecorelli, Pippo Calò, che lo aveva detto ad Abbruciati, che aveva incaricato Carminati. Pecorelli ha fatto una qualche attività che lo ha messo in contrasto con la banda della Magliana, diciamo così, qualche cosa che ha dato fastidio a qualcuno dei componenti di questa banda? No, che io sappia no. Come ricordo io ho preso questa notizia durante una detenzione che passava non filmato in televisione e Giuseppe Pucci mi disse che lui stesso aveva fornito le persone per eliminare il giornalista, che era roba di Danilo Abbruciati e che lui aveva fornito gli elementi, le persone insomma. In quel momento le disse, fece anche dei nomi di queste persone? No, perché ancora, io sapevo che Giuseppe Pucci frequentava gli ambienti di destra, però ancora non me l'aveva presentato. Ecco, in seguito poi ha saputo qualcosa di più sui responsabili dell'omicidio Pecorelli? Sì, quando siamo usciti mi ha presentato delle persone e tra queste c'era appunto Carminati che mi disse che fu lui a uccidere Pecorelli. Comunque ha bruciati, oltre ad essere un uomo d'affari molto capace e aveva creato veramente una spaccatura importante tra il gruppo operativo, quello dei duri e puri, quelli di Abbatino e ovviamente dei staccini, per una questione dei soldi, perché ragazzi dove ci sono i soldi? C'è guerra, non c'è niente da dire, potete essere più amici del mondo ma poi a un certo punto subentrano tutti sti soldi e da quel momento si spacca in due la cosa. Dicevo, Abbruciati era anche un killer, era un killer per due motivazioni, sia per vezzo personale, perciò per il suo onore, per quello che gli succedeva, sia per la parte economica, perciò lui per soldi andava ad ammazzare. Per vezzo personale ci sono due episodi molto particolari relativi ad Abbruciati dove ebbe a che dire con due personaggi e da lì nacquero sparatori, omicidi eccetera. Uno fu quello con Roberto Belardinelli che da un semplice litigio dentro un locale di Via Veneto si è finì con Abbruciati che gli sparò addosso, questo che per vendetta gli sparò prima una mitragliata a uno che non c'entrava niente, poi ne torturò un altro per sapere dove stava Abbruciati e si concluse con l'omicidio di Umbertino Cappellari che era praticamente uno che stava aspettà insieme al figlio tossico, in macchina, Abbruciati in un'area, arrivò Belardinelli, non trovò Abbruciati, ammazzò questo davanti al figlio e se ne andò. Voi immaginate da una discussione un innocente praticamente ci rimette la vita. Ma non fu solo quello, ci fu anche il caso Massimo Barbieri che era ancora più intrigato. Massimo Barbieri aveva invitato la madre della figlia di Abbruciati a un festino. Abbruciati questa la trovò come una mancanza di rispetto nei suoi confronti. Andò lì, cercò dei sparagli, si enceppò la pistola e lo pestò col calcio della pistola. La volta successiva, sto Barbieri gli sparò un colpo alla tempia ad Abbruciati, che non lo uccise per fortuna e da quel momento la vendetta ormai era delineata. Pensate, lui non si fece togliere il colpo fino a che non portò a termine la vendetta. Lasciò il colpo all'interno perché poteva operarsi e toglierlo, fino a che poi un giorno grazie ad Angelo Angelotti, che poi è lo stesso che più avanti negli anni tradì anche De Pedis, lo attirarono in una villa di Ladispoli, lo legarono e lo seviziano per un'ora e poi lo uccisero lui e De Pedis. Angelo Angelotti poi fece pure lui anni dopo una brutta fine, d'altronde. Invece il rapporto tra Abbruciati e Abbatino fu sempre pessimo e andò sempre a deteriorarsi. Ogni qualvolta poi succedeva qualcosa, giustamente Abbatino si accorgeva che Abbruciati insieme a De Pedis prendevano ordini da altri personaggi molto in alto, perché stiamo parlando comunque di mafia, di Stato, di funzionari, di imprenditori, loro si tiravano sempre più indietro perché Abbatino, come dicevo, era un duro e puro. Non sapeva ovviamente gestire il suo capitale, ma era ancora dedito alle rapine, era ancora dedito agli omicidi, era ancora dedito alla droga. Alla fine, come tutti i criminali, Abbruciati all'ennesimo incarico, che era quello di gambizzare Rosone per spaventarlo, fu ucciso. Come successe questo? Andò a Milano, doveva gambizzare Rosone, che era il vicepresidente del Banco Ambrosiano, dove ovviamente la mafia aveva grossi interessi. Probabilmente questo Rosone si era messo contro qualche cosa che serviva alla mafia, per convincerlo mandarono uno a gambizzarlo. E voi potete capire quanto una gambizzazione possa convincere un funzionario di una banca. Dopo averlo gambizzato, all'inizio ebbe un problema con l'inceppamento da pistola, poi ci riuscì. Durante la fuga, un metronotte lo colpì alla schiena con due colpi e lo uccise. E questa fu la fine di uno dei personaggi di spicco della criminalità italiana, che è Danilo Abbruciati. Questo per farvi capire che mitizzare i criminali, ragazzi, si riduce sempre che questo grande esponente, che ha avuto le capacità di legarsi con tutti gli ambienti, ha passato tanti tanti anni in carcere. Una vita comunque è spesso in fuga, spesso attento a chi lo voleva uccidere e poi comunque alla fine in giovane età è stato ucciso. Cosicché non mitizziate personaggi o eventi che attraverso la finzione o altro del cinema vi sembrano le robe grandissime. Se volete altri video sui personaggi a banda e magliana, scrivetemi su chi lo volete qui sotto nei commenti. Mi raccomando, scrivete bene, dite chi volete che vi venga a raccontare la prossima volta. E per tutto il resto, ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!